Colle Umberto, colpo grosso nella notte al negozio di biciclette Salvador di San Martino di Colle Umberto. In quattro hanno compiuto un blitz nel negozio di Via Bruschette, portando via una decina di biciclette del valore di circa 30.000 euro. Il titolare che abita al piano di sopra si è svegliato per il trambusto ed è sceso appena in tempo per vedere la banda scappare precipitosamente a bordo del furgone su cui avevano caricato l'arefurtiva, destinata con tutta probabilità al mercato nero. Sul caso indagano i carabinieri. Grazie a tutti.